Euforia, euforia è la parola generalizzata che in questo momento gira un po' sotto le righe, nell'indietro quinta per quanto riguarda la questione di Bitcoin dopo questo rialzo stellare che è arrivato soprattutto nell'ultima fase, questo rialzo che da inizio di gennaio dopo la presentazione dell'ETF stenta veramente a fermarsi, ma è veramente questo un periodo di euforia sui mercati finanziari, su Bitcoin e sulle cripto, oppure ancora non ci siamo, oppure dobbiamo vederne ancora di belle sui mercati. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, allora oggi ho deciso di mettere comunque sempre la mia faccia qui perché era una fase troppo bella, ragazzi. Guardate che numeri qui che stiamo facendo, una fase troppo bella per quanto riguarda Bitcoin. Bitcoin, massimi storici che si sono mantenuti ieri, anche se c'è stato il tentativo nella tarda serata di tornare indietro e riassorbire nuovamente tutti, ma una fase ribassista che è stata nuovamente riassorbita e proprio questa mattina è stato segnato un nuovo ATH, un nuovo all time high per quanto riguarda Bitcoin a 73,631. Questa fase è una fase molto delicata perché siamo addirittura d'arrivo con quello che potrebbe essere in effetti una zona di euforia molto molto incisiva. Allora ho deciso di andare a prendere una serie di indicatori e di grafici che andremo a guardare per comprendere se effettivamente questa fase di euforia per quanto riguarda il mercato e le cripto può essere dichiarata e quindi siamo in una fase finale di una bull run, anche se estremamente prematura da un punto di vista ciclico eccetera, oppure ancora no. Oppure siamo invece in una fase in cui dobbiamo ancora attendere che il mercato possa dare appunto quelli che sono i suoi essiti estremamente positivi. Tra le altre cose di questa fase estremamente positiva dei mercati ne beneficiano anche le istituzioni del mercato e le cripto tant'è vero che Coinbase nella giornata di oggi è uscita la notizia che mira a raccogliere addirittura un miliardo di dollari per un'offerta obbligazionale. Quindi è la prima obbligazione diciamo emessa da una delle aziende quotate del settore delle cripto più importanti di tutte ed è veramente ragazzi una notiziona perché sancisce anche quello che diciamo rappresenta questo periodo cioè l'istituzionalizzazione, l'ho detto giusto, di quella che è il settore delle criptovalute in questa fase. L'arrivo di un'obbligazione da un miliardo per Coinbase significa nuovi investimenti nel settore delle cripto in infrastrutture eccetera da un miliardo per quanto riguarda l'azienda. Cosa estremamente importante. A proposito ragazzi volevo farvi vedere anche lo sponsor di cui parliamo oggi cioè Bybit che in questo caso ha dato un bonus estremamente importante cioè 200 dollari a tutti quelli che in questo momento aprono da questo link che vi lascio in descrizione un account su Bybit e danno in pratica un voucher con un airdrop di una position aperta dal valore di 200 dollari. position che può essere appunto definita come una posizione long o short decidete voi ma soprattutto ha il valore di 200 dollari può essere venduta appena la ricevete e incassata oppure mantenuta quindi se aprite per esempio una posizione long su Bitcoin la potete mantenere 200 dollari ovviamente non è tantissimo per un investimento però è interessante. Vi lascio il link in descrizione perché fra 18 giorni si conclude questa super offerta di airdrop lo ritengo insomma estremamente interessante questa cosa perché comunque 200 dollari da avere per la registrazione di un conto allora sfruttiamo queste fasi in cui anche gli exchange stanno dando tante promo perché ovviamente sono in una fase hype anche loro e quindi sfruttiamola in questo caso insomma ragazzi vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda Bybit ovviamente exchange che già straconoscerete iper operativo dal punto di vista di future e training in generale piattaforma top come quella anche di BitGet insomma similari da alcuni punti di vista quindi assolutamente niente da dire su questo. Allora vi lascio il link in descrizione. Ragazzi partiamo con il primo grafico per quanto riguarda la risposta a questa domanda eccesso di rialzo sì eccesso di rialzo no il fear and greed il primo indicatore di natura momentum che andiamo a vedere oggi il terzo indicatore tecnico quello di cui ho parlato anche in uno short youtube un indicatore molto importante. Ok ragazzi allora stiamo con il fear and greed è un indicatore che parla ovviamente di paura e depressione del mercato un indicatore che noi dobbiamo utilizzare come un indicatore di sentiment quindi vale solo ed esclusivamente per la questione legata al sentiment del mercato non è un indicatore di natura tecnica quello tecnico ve lo faccio vedere alla fine del video avevo ripresso avevo fatto uno short youtube legato a questo indicatore ne parliamo oggi un indicatore di estensione di volatilità ma molto più tecnico di questo ma il fear and greed secondo me è un indicatore interessante perché narra qualcosa cioè ci dice che qualcosa si sta muovendo non ci dice però se è finita o se sta finendo bensì ci dice dove siamo in un determinato momento estrema fiducia del mercato questo significa che a forza da domani iniziamo a crashare assolutamente non è così perché l'estrema fiducia all'interno di un mercato si evince anche dall'andamento di trend per esempio di bitcoin che ha questa fase estremamente rialzista quindi in sostanza quello che noi stiamo vedendo un po' dal fear and greed e la rappresentazione anche di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni cioè questo trend è estremamente lineare quindi da un punto di vista di sentiment il sentiment non può che essere di assoluta ottimismo nei confronti del mercato se in effetti il trend è in questo modo però questo dato non ci dà un'informazione sul fatto che questo trend sia terminando bensì ci dice dove siamo in un determinato momento è comunque sicuramente un punto di vista accettabile perché poi è una misura estremizzata cioè una volta che viene portata in pratica vicino il dato di 100 c'è un estremo ottimismo che di solito comunque non resiste per molto molto tempo c'è da dire che nella chart inferiore possiamo vedere anche come è stato utile il fear and greed per quanto riguarda le precedenti bolle o bull run che riguardavano bitcoin cioè per esempio in questa che è quella relativa all'ultima al 2020 abbiamo visto come il fear and greed è rimasto sostanzialmente verde per tantissimo tempo cioè addirittura parte da ottobre del 2020 con un dato verde intorno ovviamente ai 50 60 per poi salire man mano e rimanere stabile fino a febbraio addirittura poi qui abbiamo i primi dati solo che scendono soltanto ad aprile 2021 quindi in pratica partiamo dall'ottobre 2020 fino ad aprile 2021 dove il fear and greed si mantiene sostanzialmente nella frangente di estremo ottimismo questo è quello che volevo appunto indicarvi che insomma chiaramente non c'è una discrepanza tra l'attuale situazione e anche le precedenti quindi non siamo in una situazione eccessiva rispetto alle precedenti questa fase è iniziata ad essere verdissima diciamo così da novembre del 2023 quindi se dovesse seguire lo stesso identico schema probabilmente potremmo arrivare tranquillamente a ottobre maggio del 2024 in questo caso sarebbe similare a questa fase sembrerebbe infatti proprio che questa fase attuale sia molto più vicina a una bull run classica di bitcoin piuttosto che a una pre bull run ma di questo magari ne parliamo in un video successivo il secondo indicatore che andremo a vedere oggi è quello legato alla google trend google trend è molto importante perché ci dice anche quella che è la struttura delle ricerche della parola bitcoin nel mondo ed indica insomma quello che sostanzialmente si va a cercare su bitcoin allora questo è l'andamento vabbè qui allora cambiamo la spagna mettiamo tutto il mondo e vediamo che negli ultimi 12 mesi siamo in pratica al picco delle ricerche della parola bitcoin a livello annuale quindi nell'ultimo anno questo livello è sicuramente il picco più elevato c'è da dire che però questo picco elevato non è il più elevato nella storia di bitcoin perché se andiamo a mettere gli ultimi 5 anni e non soltanto gli ultimi 12 mesi ci rendiamo conto che per esempio nella bolla del 2000 eravamo molto più in alto in termini di ricerca rispetto all'attuale situazione che è pur una situazione importante tant'è vero che anche nel 2022 fu raggiunta quando ci furono le crisi per esempio di o degli hype di giugno maggio giugno e crisi di luna insomma e dei fallimenti poi vari eccetera però in questa fase ancora non ci siamo arrivati quindi siamo ancora lontani dalla fase di estrema euforia che avevamo visto nella ricerca della parola bitcoin sul settore diciamo nella fase della bull precedente quella del 2021 seppur questo dato è più indicativo cioè perché rispetto al green and free al feed and greed quando questo dato raggiunge questa zona intermedia diventa pericoloso diventa pericoloso perché vuol dire che anche tantissime persone che precedentemente non avevano mai cercato bitcoin iniziano a informarsi quindi inizia ad esserci tanto tanto richiesta su questa cosa e questo potrebbe essere negativo ancora una volta perciò questa fase è una fase di attesa insomma dove noi possiamo tranquillamente ancora attenderci un movimento di continuazione di questo trend di bitcoin seppur vedete anche il livello si avvicina alla zona di pericolo vero che era quella raggiunta nei anni precedenti ecco diciamo così il terzo e ultimo indicatore che andiamo a vedere è quello più tecnico che vi ho preparato e si basa su un rappronto della distanza di bitcoin da quella che è la sua migliore media la principale media di bitcoin quella che di cui più volte vi ho parlato anche tanti anni fa quando per esempio eravamo nel concetto se dovessimo utilizzare una media su bitcoin a 200 periodi oppure una media a differente visto che c'erano più giorni aperti rispetto a quelli che erano i mercati istituzionali io feci un calcolo statistico e tirammo fuori quella che è una media a 274 giorni quindi in questo caso quello che state vedendo in questo momento sul grafico è una media a 274 giorni che è una media più precisa che rappresenta quella a 200 periodi nei mercati classici in pratica è una ho ricalcato quello che avviene nei mercati classici e quella che effettivamente la rappresentazione del periodo della media a 200 che non sono giorni bensì sono giornate aperte e se la trasferiamo in giorni su bitcoin diventa una media così che ha pennellato in maniera palese insomma tutta questa fase rialzista che state vedendo in questa zona qui e aveva pennellato anche precedentemente la fase di ribasso seppur qui c'era stato un tentativo che poi era stato ripreso quindi un fake breakout ma in questa zona quando è stata poi breccata è stata esemplare soltanto il nuovo break di questa media ha sancito l'ingresso poi in una fase di bull run molto utile in questo tipo di indicatore da poter utilizzare anche come indicatore di trend per gli older per esempio eccetera seppur nei prossimi anni io mi manterrei il dubbio se potrebbe funzionare in maniera così pulita come i precedenti perché l'arrivo degli istituzionali cambia un po le carte in tavola allora l'indicatore invece che dovremmo andare a controllare in questo momento è questo indicatore che vedete più in basso questa parte qui infatti è un indicatore di eccesso che io ho creato andando in pratica misurare e utilizzando dei insomma poi del degli smoothing legati alla volatilità eccetera andando a misurare la distanza che c'è fra il prezzo attuale e la media 274 periodi in pratica più si dista più distante il prezzo da quella medio più siamo in un eccesso rialzista è un indicatore abbastanza semplice si vede anche tra le altre cose come nelle fasi di hype il prezzo era veramente molto distante quindi molto esteso dal suo livello medio e in questo caso siamo arrivati in un livello di estensione che può essere definito come un livello di estensione pericoloso ancora non ci siamo del tutto però il raggiungimento della zona rossa di questo livello che è definito 100 in pratica sancisce l'ingresso in un'area di ipercomprato e di eccesso di natura tecnica attenzione che adesso però vi spiego anche quello che significa questo eccesso tecnico perché non vuol dire che il prezzo deve a forza crollare bensì vuol dire che il prezzo deve almeno fermarsi questo è un altro tipo di discorso crollare non necessita ancora questa cosa però deve fermarsi ecco questo assolutamente sì allora se andiamo ad analizzare questo grafico l'indicazione è palese intanto si evince anche da questo grafico la struttura e la forma delle onde di natura ciclica di bitcoin e sono anche abbastanza visibili in pratica l'arrivo in questa zona ci dice che bitcoin potrebbe o continuare a spingere a livello rialzista e andare a quel punto a creare un hype come questa zona questa era la zona del 2020 andandosi a configurare come una bull run e una superbolla qui però è invece la zona del 2017 giusto per farvi capire anche come vedete come si può andare su e poi giù in questo indicatore prima della fase definitiva quindi questa fase non ci dice in questo caso che bitcoin è arrivato però ci dice che siamo in una fase quasi riscaldata ora io l'ambito del 2017 lo utilizzerei tanto e non quanto perché l'ambito del 2017 secondo me è un po troppo lontanuccio per questa fase su bitcoin utilizzerei di più quelli che sono i dati degli ultimi delle ultime bull run che secondo me sono più identificative da questo punto di vista e quindi io direi che in questa fase un atteggiamento di riposo del mercato magari una super barra di congestione sarebbe senza dubbio la migliore soluzione per far scaricare questo indicatore di eccesso e non esagerare esagerare in questo contesto potrebbe anche lasciare spazio a crolli più rilevanti nei prossimi mesi e questo non sarebbe di buon auspicio quindi la soluzione migliore in questo momento è quella del riposo con una lateralità per quanto riguarda bitcoin lateralità che tra l'altro potrebbe andare a verificarsi anche in concomitanza con quelle che sono delle scadenze cicliche che sono di abbastanza rilevanti per quanto riguarda bitcoin e che dovrebbero avvenire tra pochissimo e sarebbero anche utili da certi punti di vista guardiamo da un punto grafico quello che potrebbe in effetti accadere che sarebbe meglio un po per tutti allora dovrebbe accadere questo cioè una fase sostanzialmente laterale di bitcoin in questa zona per poi andare ad aspettare che questa media mobile si vada ad avvicinare in pratica al prezzo e quindi vada a incrementarsi man mano che il prezzo si standardizza si ferma fa una struttura lineare in questo modo e si avvicina nuovamente a questa zona ovviamente questa media mobile punge in questo momento da sua area di supporto per quanto riguarda il mercato e siamo veramente molto distanti cioè questo è il problema allora questa zona è iniziata a diventare una zona di eccesso secondo me questo è l'indicatore più importante da andare a verificare nel prossimo diciamo nel immediato futuro sul mercato delle cripto in pratica a conti fatti quello che ci serve è una fase definita così noia allora se questa zona di bitcoin questo abbiamo visto in questa fase può essere identificato come una prima fase impulsiva e non una fase finale a livello impulsivo del mercato cioè intendo a livello di bolla e di bull run finale se questa è una prima fase della bull run allora quello che ci serve è una sola parola e la parola d'ordine deve essere noia cioè esattamente quello che abbiamo visto in questa zona qui quindi nella prima fase proprio di spuntone guardate un laterale ribazzista che va a conciliarsi con un ravvicinamento di questa media mobile che deve ovviamente andare a salire e a posizionarsi vicino al prezzo se questa è una prima fase definita così il dubbio resta se questa fase di bitcoin può essere invece configurata come la vera bull run e a quel punto se la bull run è avvenuta precedentemente ci stiamo avvicinando ai massimi di questa fase della bull run i giochi sarebbero stati più veloci più stretti meno invasivi su alcune criptovalute e soprattutto di non penti su una fascia di investitori cioè gli holder perché è vero avremmo fatto nuovi massimi rispetto alla precedente fase di bull run ma non sono stati così incisivi perché praticamente quasi niente rispetto al precedente massimo lasciando un po' la mano in bocca a chi effettivamente non riesce magari a utilizzare le fasi di momentum le tecniche di trading per approfittare di queste fasi magari appunto comprando i prezzi quando erano un po' più bassi e vendendo in una fase di euforia è più facile a dirsi che a farsi ovviamente ci sono diverse tecniche che si possono utilizzare nell'ambito specifico bitcoin è uno degli strumenti più semplici sui quali fare queste cose però è anche vero che è comunque complesso bisogna formarsi avere le spalle coperte e sapere quello che si sta facendo ma se questo è solo il primo step allora attendere con noia i prossimi mesi non sarebbe un male addormentarci un po' qui per aspettare il riassorbimento di questi fattori a quel punto l'eccesso di rialzo sarebbe verrebbe a diminuirsi soprattutto molte persone inizierebbero di nuovo a dire sì vabbè però ora non sale più no perché il gioco delle parti come vi ho spiegato anche in qualche short che ho fatto su youtube il gioco delle parti è sempre quello di non farsene accorgere far pinta che non sta succedendo niente e fino all'altro giorno nessuno si era accorto che bitcoin era i massimi storici nessuno si era accorto che questo mercato saliva da più di un anno tutti a indicare e sì però e sì ma le altcoin quando partono e poi a un certo punto ragazzi funziona sempre così fate molta attenzione a queste trappole di natura psicologica perché sono importanti e soprattutto indicative quando pensate che le cose vanno benissimo e che niente potrà fermare il rialzo quello è il momento di preoccuparsi quando vedete che tanta gente sì ma a me non importa sì ma a me non interessa sì faccio la domanda vediamo se vuol dire che ancora i giochi non sono fatti del tutto ma poi altra domanda e gli etf in tutto questo che ruolo avranno come si comporteranno in una fase di topping di bitcoin vedremo delle discrepanze rispetto ai dati precedenti e soprattutto che cosa faranno gli etf quando sarà il momento di prendere profitto perché attenzione come quelli sono entrati in lo stesso identico momento vi assicuro prenderanno profitto e se ne andranno a gambe levate perché gli istituzionali in questo caso non fanno assolutamente logiche di filosofie religiose o roba del genere perciò come hanno pompato i prezzi in quel caso quando sarà il momento di vendere potremmo vedere repentini crolli allora staremo a vedere questo è tutto un altro argomento e ne parliamo nel prossimo video per oggi è tutto ragazzi vi lascio la promo di Bybit 200 dollari di position aperta con il claim in descrizione e ci vediamo nel prossimo video ora vado ciao